Ciao ragazzi, benvenuti! Noi facciamo un video su Dragon Ball! Su Dragon Ball! Tre pacchi nuovi di giochi preziosi! Via con la sigla! Eh? Perché hai detto? Niente, niente! Eccoci, ragazzi, apriamo questo qui Piccolo, però prima vediamo che cosa ci abbiamo Che cosa ci abbiamo? Ci abbiamo questo qua Aspetta, vabbè, non si Eccolo qua! Questo è uno Spin Bot Lair Quindi si danno un sacco di botte Calci e pugni probabilmente, è vero? Sì, sì, ecco, guarda, vediamo se si capisce da qui Sì, guarda che roba! Anzi, possono combinare fino a quattro Quindi con due confezioni di queste facciamo una sfida a quattro Io, te, mamma e nonno, nonna, non lo so Vediamo Intanto facciamolo con due Questo invece è Vegeta Che spara un super ventolone Che cos'è questa cosa? Spara una cosa super figa Dai, ma la spara veramente, non per finta Dai, dopo la vediamo E poi Questo È un lanciatore d'onda energetica Lo metti sul polso Giusto? Sì Sembrerebbe di sì Sembrerebbe di sì E spara questo mega... Da, da... Un'onda energetica È un'onda energetica Vabbè Mettiamo questi due e apriamo questo Mettiamo via... Ah, sì, dai, mettiamo via questi due e iniziamo con quello di là Spacchettalo Vediamo se ce la fai subito Penso di sì Non ci vorrà mai questo Fatto Ok Togliamo di mezzo tutte queste cose Guarda che bell'effetto Lorenzo Nel ghiaccio! Ma che è sta pesteria? Dai, vai avanti Cercchiamo di montarlo Giusto? Cercchiamo di montarlo Scusate se sentite la voce che va e viene Ma papà ogni tanto si gira Mette a posto il divano I cuscini La confusione Ok Un altro pezzo Ah, hai fatto già? Hai fatto vedere? È semplicissimo allora Cioè non c'è molto da montare È solo da assemblare Da mettere uno sopra l'altro Ma che è sta cosa? Vai, vai Metti pure Goku Goku quello si chiama, no? Sì, sì Quello è Goku Dai ma ti sfido subito Io prendo quello che ha la pancia grande Che mi somiglia E tu prendi Il cicciottello Lorenzo Il cicciottello Adesso siamo pronti A fare questa super battaglia Sì Io prendo lui Quello che mi somiglia Quello muscoloso Muscoloso E io prendo quello Muscoloso E io prendo quello Quello più muscoloso Quello che lo sfilzo E quello che mi somiglia più a me Sì E il biondino come te Non hai capelli a spazzola come te Insomma tu prendi tu Io prendo questo E vediamo che si stacca per primo Perdi Pronti? Oh È iniziato No Ma dai Ma già mi hai scaraventato a terra Nonostante la mia mole Guardate Che mole Invece tu sei Invece tu sei Smilzo Vabbè Vabbè Ma non vincito Perché prima Quando mi avrei Scogravo Che ho fatto Papa 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 Ah pure Non male Ah Allora è bobbarato Via Via Oh no No Come un cannobio Non è possibile 2 a 0 Via Sì No Arrivato a ruotare Tantissimo Questo è un pareggio Bisogna vedere Dal replay Chi Si è staccato prima Mi sa Io Tu Mi sono preso il punto io Allora 2 a 1 Via No vabbè Ma non è possibile 3 a 1 Che arriva prima 5 e vince Aspetta E dai 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 Ma non è possibile Mi manca quanto Mi manca un punto 4 a 1 Via No vabbè Un massacro è stato 5 a 1 5 a 1 Ecco il vittorio No il vittorioso Il vincitore Anche vittorioso Sì Il vincitore È Goku Giusto Guarda un po' Che c'è scritto Tu sai il giapponese No Manque Se sarà scritto Arigato Arigato Sì Passiamo a un altro gioco Eccolo Eccolo là Ecco qua Eccolo là Siamo tornati Con questo Vegeta Lo spara Roba Vieni qui Unboxa Unboxa Eccolo Eccolo qua Dobbiamo scorrere un altro pezzo Eccolo qua In ogni confezione ci sono le istruzioni Come sempre E tu adesso proviamo a vedere Cosa fa e come lo fa Allora abbiamo scoperto come si fa Metti quella super mega ventulona Attaccata davanti Alle mani Quando lui fa così Attaccata alle mani La giri La giri Gira gira Fin quando non senti che fa Crac 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 Forte Così è pronta Aspetta Dove lo spari Qua Spara È arrivato dall'altra parte Ma è fortissimo Ricarica quello Dai Adesso voglio sparare io Non è solo obiettivo No cerco di non prenderlo Oh mamma C'è mamma dietro Oh mamma Attento che mamma ci sgrida forte Vado Sì Oh RICCIA Ma è fortissima sta cosa Ma dobbiamo provare Non lo so In qualche luogo Perché è mosso tutto il tavolo Dobbiamo provarla In un posto un pochino più libero Ma è proprio figo Guarda che bello Adesso facciamo una prova Sì Scontro fra eroi Sì Vegeta E Ben E Ben E Ben E Ben Trasformato da Uomo Fiamma Com'era Non mi ricordo Vabbè Insomma lui Lo vedete Abbiamo fatto un video Su Ben 10 Prima di questo Sì Molto figo Sì Cioè molto figo il video Molto figo i prodotti Il video Se vi piace Adesso provo a buttarlo giù Premi tu Vai Oh Ma dai Ma si distruggono le cose Così Vabbè dai Passiamo al secondo prodotto Eccolo Ecco qua Ecco qua il lanciatore Onda energetica Staccalo Sbraccalo Distruggi Distruggi solo la confezione Mi raccomando Che cos'è quello? È una cosa Di questo Ah Quello di prova Vabbè dai No fa pure i suoni Non c'era scritto da nessuna parte No c'è scritto che fa i suoni Oh mamma mia Dai dai che figo Non vedo l'ora Questo sicuramente dovremmo provarlo all'aperto Ma è morbido Certo che è morbido Certo Certo che è morbido Fighissimo Dai Allora Aiuto Qua si è preso Mamma Eh ho visto Bisogna fare attenzione Questi giochi così Allora Questo va messo Al polso Al polso Mettila no? Scegli quale polso Destro o sinistro? Destro Ok Va agganciato così Giusto? Perché Facciamo vedere bene Questo Questi ganci Vanno agganciati su questi altri forellini C'è la ciccia Aia Aia E aia Su un po' Mamma mia Facca Facca Abbiamo finito No Anca l'ultimo Messo bene Non mette bene l'ultimo Ah Quando ero giovane Io queste cose Non mi facevano paura Ah non è vero Si lo dicevano sempre i nonni Ste cose Ah il militare Tu non sai neanche di che sto dicendo Vai aspetta Infatti no Togli sta roba di mezzo Aspetta eh Fai vedere bene da vicino Non sparare Tu basta che spara Lui Eccolo A parte il fatto che fa Un sacco di rumore Ah però si può spegnere Vedi Ok Non condimano C'è quindi c'è Pulsantino di Aspetta ti spezzo il braccio Dobbiamo andare all'ortopedico Dopo C'è Pulsantino On e off Il suono lo fa da qui dietro Spegni per favore Perché? Lascia Lascia l'acceso E poi questo È il pulsante Per farlo partire Ma noi per farlo partire Dobbiamo utilizzare La tecnica Super mega potenza Capito? A parte che non andava Messo lì Andrebbe messo Come sotto sopra Allora abbiamo Mamma mia Proprio come nei cartoni animati Senti quanto strilla Perché nei cartoni animati Non so perché Gridano tantissimo Tantissimo In una puntata passano anche Cinque minuti a fare Aaaaaaah Aaaaaah 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 Però è carino Sembra che sarà un'automobilistica Sì sì Sembra che sarà un'automobilistica Allora aspetta No aspetta Accendiamola Avevamo messo al contrario In realtà questo Va messo così Perché poi Lorenzo Il bambino farà Questo gesto qui Andrà a colpire Con il proprio Con la propria Cos'è questa parte qui? Ma non era proprio il tuo polso Bravissimo polso Dio mio Che disastro Il polso Qui E fa partire Questa onda energetica Potentissima Super morbidosa Provo eh Aspetta Accendiamo Dobbiamo fare i rumori Aaaaaah Senti Hai senti Senti Che cosa hai per dire Tira Vado via Mamma mia La telecomera Ottimo Ho paura Insomma È figo Fighissimo Li proviamo all'aperto Dopo dai Va bene Continuiamo il video all'aperto Adesso Siamo All'aperto Sì Abbiamo trovato Volevamo farlo sul prato Ma ha tirato a povento Vogliamo fare una prova Sì Perché vogliamo buttare giù Scazzati E perché chi hai? Quella piramide Vediamo quanto sei bravo Con Questo super Attrezzo Vai Ma l'hai preso Ma neanche via Ti ho detto Comunque è bravissimo Doi Ricarica questo Spara Oh Ahia Ma hai preso In fronte E adesso facciamo una prova Di quanto va distante Perché va lontanissimo Vai Guarda che roba No vabbè Questi sono 20 metri Eh Beh Perché cosa Che noi scavamo laggiù E adesso Siamo qui Ma è tanto eh Sì Funziona proprio la grande Adesso proviamo Questo dove Del super strillone L'onda d'energia Via sul prato Vai Spara Ma che è sta schifezza Ma dai Vai Oh Che super tiro energetico Sì Vediamo Io sono a circa 5 metri Vediamo se arrivi a me Vai Oh ci arriva Dai E' stato un po' che si è pagato Eh sì Quindi Diciamo che 5 metri La distanza Che ce la fa raggiungere Forse anche qualche Un 5-6 metri Che non è poco Per questa Super palla Spugnosa Energetica Oh Eddie Ma quello è un pigiama No Sembra un pigiama Ma che stai registrando Sì stai registrando Vabbè non lo metto Non lo metto Forse Dai Dai